alcuni prodotti nocivi contro gli OGM e quindi chiedono risarcimento d'anno agli Stati, la multinazionale chiede risarcimento d'anno a uno Stato che è stato sensibile alla salute e agli interessi dei suoi cittadini e questo è quello che ci chiede l'Europa, quindi dobbiamo essere presenti per evitare tutto ciò e per fare gli interessi dei cittadini italiani che sinora nessuno ha mai fatto in Europa. Andiamo lì per cambiare non solo l'Europa ma per cambiare anche l'Italia. Grazie. Grazie.